Ormai siamo giunti alla quinta edizione di questo splendido contesto che è l'Ors Club di Rapallo che ormai è un'esperienza veramente di vita, importantissima per i ragazzi i quali sono avviati a una pratica sportiva per molti nuova sport che ricordiamo essere alla base comunque della terapia del diabete stesso quindi noi riusciamo contemporaneamente a far divertire i ragazzi, ad avviarli a uno sport e a curarli Che cosa hanno fatto in questa settimana? La settimana è molto piena, loro innanzitutto fanno il corso di equitazione quindi imparano anche elementi nuovi dell'andare a cavallo e parallelamente ovviamente imparano anche a prendersi cura di se stessi quindi noi insegniamo ai ragazzi in particolare l'autonomia in quella che è la gestione della terapia del diabete che è comunque una terapia oggettivamente pesante parliamo di almeno 4 somministrazioni di insulina al giorno almeno 6, 7, anche 8 controlli glicemici al giorno quindi loro imparano ad autogestirsi perché sono in un'età un po' delicata l'età della pubertà, quindi un'età anche di crisi crisi che noi cerchiamo anche di far venire fuori e in parte di risolvere attraverso anche un'attività parallela di psicologia comunque di una terapia psicologica di gruppo Le risposte sembrano essere molto positive Le risposte sono molto positive io penso che ci sia anche un'integrazione tra i nostri amici dell'Horse Club di Rapallo e i nostri ragazzi che faccia bene entrambi perché comunque anche a volte a rendersi conto che la vita non è sempre comunque tutta rosa e fiori penso che serva a tutti Paolo Bertolini possiamo definirlo ancora nuovamente un successo? Sì, direi di sì il successo è una grandissima soddisfazione perché rivediamo dei volti che abbiamo visto piccini li rivediamo adulti e dei nuovi volti che si appassionano a questo sport e di giorno in giorno ci riservano una sorpresa e una soddisfazione quest'anno oltretutto abbiamo avuto un'ulteriore adesione che è quella del Comune di Rapallo che ha sponsorizzato e patrocinato questa nostra iniziativa che non è ormai più un'iniziativa ma speriamo, visto che è il quinto anno essendo un evento fatto e finito che possa avere sempre una maggiore estensione e aprire questo mondo di equitazione a tanti ragazzi che vorranno venire a trovarci Un'Horse Club Rapallo sempre più solidale? Sì, direi proprio di sì anche perché tutto sommato l'agonismo, lo sport, il cavallo, la pet therapy sono tutte cose che si possono abbinare miscelare e dare benessere a noi che lo facciamo e ai ragazzi che intraprendono anche per la prima volta questo sport a tutti Porte aperte per tutti Porte aperte per tutti braccia aperte per tutti da parte nostra verso tutti i ragazzi In adolescenza il diabete è una componente che non aiuta nel percorso di crescita perché aspetti molto delicati quali il rapporto con la famiglia il rapporto con gli altri la costruzione della propria identità si complicano ancora di più nella gestione anche di questa patologia Il senso dei campi è proprio quello di permettere loro di trovare un momento di confronto e condivisione per affrontare tutte queste tematiche e tutte queste delicate situazioni e riuscire in qualche modo a trovare spazio di comprensione e soluzioni alternative che possono sicuramente portarsi a casa come bagaglio prezioso Del cavallo e andare abbiamo provato un paio di cose è il mio primo anno divertente molto divertente E per te? Imparare cose nuove andare sul cavallo e anche fare nuove amicizie qui Cosa vi è piaciuto di più? In generale l'esperienza io ormai tre anni che vengo è sempre un'emozione diversa ogni giorno ed è molto bello questo campo Che rapporto si crea col cavallo? Di solito si spera buono e che si diventa quasi amici con un animale Tu l'avevi già provato in passato? Sì, l'avevo fatto tre anni fa a cavallo è stata un'esperienza bellissima infatti ho voluto rifarlo perché mi è piaciuta veramente tanto Perché lo consiglieresti da altri? Perché comunque creare un rapporto con un animale che non si ha i soliti come il canno e il gatto è molto bello soprattutto perché vedi che anche gli animali lo ricambiano è molto bello